Può essere una passeggiata per l'Agropoli con questo risultato, si andrà pure a giocare, attenzione, sguscia in mezzo a due avversari, viene pure trattenuto, ci sembra Casciaro, non vorrei sbagliare, è la prima volta che vedo vicino i giocatori della seconda compagina Lametina del San Biasi, Sì, era Casciaro, è andato in un dribbling stretto in un sandwich, ce l'avete visto fallo, ennesima punizione, taglio sul secondo palo, attenzione, Cordiano, forse c'è un fallo, è stato toccato un giocatore del San Biasi prima della battuta a rete, non c'è nessun aiuto, la palla spiove, esce, il portiere blocca, Vaccaro. Grazie.